Proseguono con successo le attività di Rosanero Cares, progetto di responsabilità sociale dell'US città di Palermo. La quarta associazione palermitana sostenuta dalla società Rosanero nella stagione 2014-2015 è l'associazione SOS Primo Soccorso Cani e Gatti Ollus che dal 2006 gestisce un rifugio per cani e gatti a Palermo in via Bonafede. In particolare il rifugio sta usufruendo dei proventi di Rosanero Cares, usufruirà in particolare di un quarto delle aste effettuate sulla piattaforma Charity Stars. La società Rosanero ha inoltre voluto dimostrare la sua vicinanza alla causa del rifugio donando 200 kg di mangime per cani e gatti portati oggi da Francesco Bolzoni, testimonial di questa attività che in particolare lancia un appello ai tifosi Rosanero. Faccio un appello a tutti i tifosi Rosanero e comunque alla gente di Palermo di passare al rifugio a vedere questi cani che hanno bisogno di aiuto e di effetto e magari decidere di prenderne uno e portarselo a casa. A me piacciono molto i cani sia a me che a mia moglie e a mio figlio quindi quando possiamo li aiutiamo e già quest'anno e l'anno scorso abbiamo cercato di fare qualcosa e speriamo di poter dare qualcos'altro nei prossimi anni. Domenica la partita contro l'Atalanta, ieri la Zara ha detto dobbiamo lottare per i tifosi e per chiudere nella parte sinistra della classifica, è un po' un concetto nella quale ti ritrovi? Sì, sì, per noi è importante poter fare più punti possibili da qui alla fine perché è comunque un motivo di orgoglio arrivare nella parte sinistra della classifica e magari restare davanti a squadre più blasonate. Cercheremo di fare più punti possibili e cominciando dall'Atalanta proveremo a fare i tre punti. Secondo me siamo stati un po' sottovalutati, comunque è una squadra che in Serie B ha fatto benissimo, non poteva non fare bene anche in Serie A. Poi abbiamo grandi giocatori quindi mi aspettavo questo risultato. Obiettivo personale per questo finale di stagione? Ma giocare il più possibile, quello sicuramente è dare una mano alla squadra a fare il più punti possibile.